di intervenire perché rischio di ripetere quanto già stato detto, ma mi sembra importante da uomo sottolineare quanto dicevano le consigliere Veronelli e Mantovani rispetto alla necessità dell'educazione fin dalla più tenera età. Io spesso e volentieri do per scontato, me ne sono reso conto riflettendo sulla manifestazione di questa sera, do per scontato di possedere la cultura della parità di genere. Probabilmente spesso per i miei coetanei questo è qualcosa di acquisito, per me soprattutto in modo particolare perché ho la fortuna di vivere una vita di coppia all'interno della quale la dimensione maschile e femminile si compensano molto bene si compenetrano e si arricchiscono reciprocamente. Però sono i fatti di cronaca che effettivamente quotidianamente, quasi quotidianamente, ci ricordano che ancora tanti, troppi uomini agiscono episodi di violenza che denotano la mancanza profonda di rispetto della donna e quindi disconoscono la nostra parità. Ritengo quindi che questa delibera sia un piccolo passo per una maggior diffusione della reale cultura di parità di genere che parte dall'educazione dei più piccoli amici. Per questo credo sia un passo importante e sono ovviamente poco regolato.